Rimbalza su tutti i media nazionali e non poteva essere diversamente il primo caso di applicazione della legge Nordio, entrata in vigore dallo scorso agosto, ovvero il contraddittorio preventivo con un destinatario di richiesta di arresto in carcere. Il caso è Umbro, tifernate per l'esattezza riguarda l'ex presidente della Sogepu, la società capitale interamente pubblico di città di Castello e comuni dell'Alto Tevere, Cristian Goracci. Il GIP Natalia Giubilei ha avvisato l'ex amministratore della società, che si occupa principalmente di rifiuti, che la procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha chiesto al giudice l'arresto in carcere per corruzione insieme agli imprenditori Antonio Granieri della ECE e Massimiliano Nebbiai della OMN Componenti. L'accusa, nel periodo di dirigenza della Sogepu Goracci, avrebbe ricevuto da Granieri 750 mila euro per agevolare la partecipazione di ECE al bando vinto da Sogeco SRL, l'associazione di impresa costituita dal 51% di quote di ECE e il 49% di Sogepu, finalizzata a giudicarsi l'appalto di 315 milioni per la gestione dei rifiuti in tutta l'Alta Umbria. Secondo l'accusa, Goracci avrebbe percepito anche 36 mila euro da Nebbiai per atti contrari a doveri d'ufficio. La richiesta di arresto dovrà essere convalidata o meno dal GIP in base al contraddittorio atteso nei prossimi giorni. La notizia arriva come un macigno in una comunità come quella di Fernate che aveva assistito nei mesi scorsi all'arrivo della Guardia di Finanza negli uffici di Sogepu e che aveva appreso lo scorso 12 agosto che la società pubblica era stata frodata per 42 mila euro da titolari di due imprese che lavoravano per Sogepu, gonfiando fatture o dichiarando operazioni su macchinari mai fatte o fatte parzialmente. Questo nuovo filone d'indagine va a mettere mano sulla questione faticosa, lunga e contestata della gara d'appalto per la gestione dei rifiuti in tutta l'Alta Umbria passata attraverso ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. In ballo 315 milioni di euro spalmati in 15 anni per gestire la raccolta dei rifiuti da San Giustino fino a Gualdotadino. Proprio il comune di Gualdotadino aveva fatto ricorsa al TAR e segnalazione all'ANAC, Autorità di Controllo Anticorruzione, dopo aver visto ESA, la società capitale interamente pubblico del comune gualdese, vedersi esclusa dall'associazione temporanea d'impresa con Sogepu ed ECE al momento del deposito dei documenti per firmare il tutto. Il TAR diede torto in quel frangente al comune gualdese.